ancora ben trovati gentili telespettatori eccoci con il telegiornale la cronaca ci porta subito a prato carnico per parlare di una donna che è riuscita per la passeggiata nei boschi vicino a casa è stata passata la notte alla ghiaccia è stata ritrovata proprio nella mattinata il servizio d'apertura del telegiornale una donna di 69 anni alfredda biasine di udine era scomparsa ieri verso le 12 circa dopo essere uscita dalla sua casa della carnia per andare a fare una camminata nei boschi forse a cercare dei funghi o forse solo a prendere un po d'aria approfittando della bella giornata poi non è più rientrata la vicina di casa si è accorta della sua assenza dopo essersi recata presso la sua abitazione come sempre fa per portare il pasto di mezzogiorno vedendo che non era tornata si è subito insospettita e ha dato l'allarme facendo a correre sul posto le squadre di soccorso siamo nella frazione di truia a prato carnico in provincia di udine è qui che alfreda trascorre da sola i mesi estivi è una donna lucida e presente a se stessa gran camminatrice e amante nella natura conosce bene queste zone della montagna i boschi e i sentieri per lei c'era una grande preoccupazione perché ha passato la notte alla biaccio ad una temperatura che la scorsa notte è scesa a 9 gradi le ricerche sono riprese questa mattina lunedì 21 settembre sono scesi in campo i vigili del fuoco i militari del soccorso alpino della guardia di finanza di tolmezzo gli uomini della forestale i volontari del soccorso civile del knassass di fornia voltri e i carabinieri di comeglian sovaro della compagnia di tolmezzo comandata dal capitano stefano bortone la donna è stata ritrovata verso le 11 e 30 di oggi era caduta in un addirupo dove era stata soccorsa con lei c'era anche il suo cagnolino che le è rimasto sempre a fianco pare che la 69enne non abbia riportato lesioni gravi e che stia abbastanza bene sarà comunque sottoposta ad alcuni controlli all'ospedale di tolmezzo sul posto il personale del 118 a pre mariacco invece hanno lanciato i fiori dall'ultra leggera sono poi precipitate il loro intento era di festeggiare con un sorvolo speciale un giorno che voleva non nessuno dimenticasse il battesimo di una bimba la nipotina di uno di loro così sono saliti su un ultra leggero un p92 di marca tecnam un mezzo sicuro in alluminio fabbricato a capo e usato in tutta italia all'estero per imparare a volare erano in due arrigo bernardis per tutti gli amici roberto 65 anni di udine il nonno della piccola e antonio gobbo 52 anni di codroipo che poco prima di decollare dall'aviovase fly and joy di san mauro di premariacco in friuli ha postato su facebook le immagini gioiose della splendida cerimonia scattate ai tavoli della trattoria annessa alla pista di volo poi il dramma sono le 12 30 quando i due amici che i soci della sd che gestiscono la scuola di volo conoscono bene da diversi anni decollano indossano abiti eleganti ma hanno tutte le carte in regola per fare il sorvolo che dura circa una decina di minuti tempo di omaggiare gli ospiti della cerimonia con alcuni scatti dall'alto e per lanciare una coreografica pioggia di petali colorati sul ristorante e il prato dove si sta festeggiando il tattesimo su quella lieta scia di fiori pochi minuti più tardi passeranno i mezzi dei vigili del fuoco di cividale del friuli e quelli del 118 della centrale operativa di udine roberto arrego infatti su quella pista si schianteranno il problema nasce a circa 20 forse 30 metri dalla superficie in fase di atterraggio per causa in corso di accertamento a cura di carabinieri della compagnia di cividale del friuli comandati dal maggiore gabriele passarotto il veicolo entra in fase di stallo i due friulani non riescono a riportarlo in assetto e precipitano il p92 cade sulla pista e impatta il suolo prima con l'ala sinistra quindi con la parte anteriore quella dove si trova la cabina di guida b posto con le due cloche lo schianto è tremendo l'ultraleggero si accartoggia subito interviene il personale della sicurezza della fly and joy scuola di volo più che rinomata in friuli attiva da 20 anni che vanta il rilascio di oltre 400 brevetti di volo da udine si alza l'elicottero del 118 e parte un'autoambulanza il più grave dei due piloti è gobbo il 52enne è privo di conoscenza ha riportato gravi diversi traumi in cui uno importante al volto intubato viene condotto all'ospedale cattinare di trieste dove sarà accolto nel reparto di rianimazioni le sue condizioni sono molto gravi in terapia intensiva pure l'amico arrigo che è anche socio della sd e che nello schianto si è rotto una gamba e che pare si sia fratturato alcune costole il veicolo è stato posto sotto sequestro e sarà sottoposto alle perizie disposte dalla procura di udine all'origine dell'incidente sembra vi siano una distrazione o un problema con il vento che ieri in quella zona soffiava nove nodi più come il funzionamento meccanico del p 92 un allarme per un incendio questa mattina in un'officina a fagagna i ladri invece erano intervenuti tentavano il furto momenti di paura nelle prime ore di oggi a fagagna in prossimità del capannone di una officina meccanica dove verso l'una di notte un vicino ha visto levarsi nel buio una densa colonna di fumo e ha sentito poi le sirene l'uomo ha pensato subito a un incendio ha chiamato i vigili del fuoco i pompieri sono arrivati sul posto dopo poco e hanno scoperto che in realtà nulla stava bruciando hanno infatti poi appurato che un ladro o comunque una banda di malviventi aveva tentato di entrare nell'officina forzando una piccola finestra l'infrazione è stata rilevata dal sistema di allarme che oltre ad attivare le sirene ha fatto scattare anche i fumogeni l'area è stata quindi avvolta da molto fumo sul posto sono recati i carabinieri della locale stazione che hanno appurato che si trattava di un tentativo di furto sventato proprio dai potenti nebbiogeni che hanno messo in fuga i malviventi dal capannone infatti pare non manchi nulla l'assessore sandra maria sandra telesca è intervenuta invece a porto in ora per parlare delle misure di sostegno al reddito assessore telesca misure di sostegno al reddito possiamo dire che finalmente si parte sì l'abbiamo la legge è stata approvata alla fine di luglio avevamo 90 giorni di tempo per fare il regolamento il regolamento è pronto è stato comunque un lavoro importante degli uffici congiuntamente direzione lavoro e direzione sociale e devo dire che in questo caso molto non come succede ogni tanto che le leggi stanno ferme perché manca il regolamento attuativo il regolamento è pronto ha evidentemente dei passaggi quello in commissione e al consiglio delle autonomie locali però è proprio il documento che permetterà di partire effettivamente spiega come fare la domanda dove fare la domanda che tempistica c'è quindi è quella cosa che servirà ai cittadini per poter poi concretamente fare la richiesta ed avere questa misura di sostegno attraverso lo ricordo i servizi sociali dei comuni in congiuntamente con gli uffici del lavoro dei territori e quindi io credo che nel giro di un mese saremo proprio pronti per partire effettivamente vogliamo ricordare la platea a cui si rivolge questa misura sì la platea dei beneficiari e sono tutti i nuclei familiari con un isee inferiore ai 6 mila euro che potranno fare domanda per ottenere un beneficio che arriva a un massimo di 550 euro mensili a fronte del beneficio c'è la necessità di firmare un patto così chiamato patto con le istituzioni quindi con gli uffici del lavoro o con i servizi sociali dei comuni e un patto che prevede anche dei doveri e degli obblighi del beneficiario che possono essere di vario tipo dalla formazione al lavoro o anche interventi di carattere così sociale familiare a seconda dei casi che verranno valutati dagli uffici a Pordenone c'era anche la governatrice del friuli Venezia Giulia Deborah Scarrachiani che ha presentato il progetto del nuovo ospedale. Presidente Sarachiani un impegno mantenuto questo sul nuovo ospedale di Pordenone? Sì sono particolarmente soddisfatta del progetto che oggi abbiamo presentato quali sono le cose importanti intanto parliamo di un nuovo ospedale complesso perché si tratta di realizzare un cantiere in un luogo già molto urbanizzato ma abbiamo lavorato molto sulla mobilità sulla qualità dell'edificio sul bassissimo impatto ambientale e anche sul fatto che deve integrarsi con il territorio. Devo dire che è venuto fuori davvero un ottimo lavoro che mi piace ricordare è interamente coperto dal punto di vista finanziario e in secondo luogo sono tutti fondi regionali e in parte comunitari per quanto riguarda gli impianti tecnologici quindi stiamo rispettando tutti i tempi e andremo avanti esattamente come c'eravamo prefissi. Un ospedale tecnologicamente molto avanzato che rispetterà anche molto l'ambiente? Sì addirittura c'è un abbattimento dell'emissione di CO2 del 31% e vengono mantenuti tutti i servizi anzi vengono implementati in qualche modo i servizi e anche le disponibilità dell'ospedale in più è stato curato come ricordavo prima anche l'impatto sui luoghi e quindi è particolarmente curato sia la zona parcheggi sia la zona della logistica e anche degli ingressi con un ingresso riservato per i pazienti dell'emergenza e con un ingresso evidentemente libero e più aperto per quanto riguarda i pazienti che devono fare solo prestazione ambulatoriale o andare a trovare i degenti. Andiamo adesso in provincia di Udine proprio a Porpetto per parlare di cronaca all'ultimo brindisi un uomo si è accasciato ed è deceduto nell'agriturismo davanti agli amici. Si trovava in compagnia dei suoi amici all'agriturismo Zucchiatti di via Madonna Missionaria a Porpetto per un brindisi in compagnia come del resto faceva sempre poi provvisamente ha perso i sensi e si è accasciato al suolo ed è deceduto colto da infarto sotto gli occhi degli amici e degli avventori che hanno subito chiesto il soccorso. A nulla però è valso l'intervento dei sanitari del 118 che sono intervenuti proprio per cercare di salvargli la vita. L'uomo un pensionato del posto molto conosciuto è deceduto e la sua scomparsa ha colpito profondamente la comunità locale e anche la popolazione del vicino comune di San Giorgio di Nogano. Vittima del malore Riccardo di Monte 66 anni già dipendente della Cogolo e amico degli Alpini. A Porpetto era amato per la sua simpatia e la sua voglia di stare assieme. Lascia la moglie Fabiana il figlio la nuora e il nipote. Il funerale sarà celebrato domani pomeriggio alle 15 nella chiesa di Corniolo di Porpetto. Ancora nella bassa friulana subito per parlare della l'ex tratto della Stratale 14 una strada che si è trasformata in discarica il sindaco ha deciso di chiuderla non senza proteste soprattutto da parte dei ciclisti. È diventata una discarica la vecchia strada regionale 14 che costeggia la ferrovia. Per questo il comune ha emesso un'ordinanza di chiusura della stessa impedendone l'accesso con una sbarra ed è subito polemica. L'amministrazione comunale ha infatti deciso la chiusura di questo vecchio tratto della SR 14 abbandonato a seguito dello spostamento dell'asse stradale realizzato qualche centinaio di metri più a nord è diventato poi comunale ormai diretta solo al bar bianco o al centro frutta dopo che più volte lungo i margini erano stati rinvenuti i laterizi ma soprattutto lastre di amianto è chiaramente depositate di notte con qualche camion. L'interdizione al traffico veicolare a eccezione dei velocipeti riguarda il tratto di strada lungo la ex SR 14 compreso fra l'intersezione della stessa con la strada perpendicolare che si collega in direzione nord con la SR 14 in corrispondenza del chilometro 102 più 220 fino all'altezza del cavalca ferrovia posto nelle vicinanze del campo sportivo del capoluogo. A protestare per la chiusura sono stati i ciclisti grandi fruttori di quella strada ma Fasan ribadisce che il divieto non li riguarda essendo lasciato loro libero il transito ma a lamentarsi sono anche alcuni dipendenti delle due strutture commerciali il bar bianco e il centro frutta che per andare a lavoro devono arrivare da nord dalla trafficatissima SR 14. Stesso dicasi di qualche abitante della zona che per comodità usa quel tratto tutti d'accordo nel ribadire che la chiusura interessa qualche chilometro ma per noi fruttori è un tratto importante per questo chiediamo venga riaperta al traffico. Come spiega però il sindaco Roberto Fasan la strada era ormai diventata una discarica a cielo aperto per cui ogni volta che dovevamo rimuovere questi materiali il comune si trovava a spendere 5-6 mila euro a causa delle obiettive difficoltà di controllo e sorveglianza che autorizzano chi che sia a depositare rifiuti senza rischi dice di cui la scelta. La chiusura si è resa anche necessaria per le condizioni dissestate in cui il tratto versa a causa di numerose buche potenzialmente pericolose in fase di transito di veicoli anche a velocità moderata a cui eventuale manutenzione spiega ancora il sindaco risulterebbe economicamente gravosa e comunque non darebbe risultati definitivi stando il pessimo stato del manto stradale. Voglio anche ribadire che la chiusura di questa strada non va a inficiare sulla circolazione stradale in quanto c'è un adeguato percorso alternativo. Stiamo verificando anche la chiusura di altre strade poco praticate, vedi quella denominata dei prigionieri, per lo stesso motivo stanno diventando discariche e il comune non può sostenere questi costi di smaltimento. Allora si ferma qui l'informazione del Friuli Venezia Giulia, vi ringrazio per averci scelti, vi auguro una buona serata con i nostri programmi, a risentirci. Grazie a tutti!